confesso che ho pensato molto come impostare questo video sostanzialmente per due motivi in primo luogo perché ho visto il film ed è un film molto molto interessante e in secondo luogo perché parlando della bomba atomica e del periodo del diciamo così della costruzione della bomba atomica in realtà c'è un sacco di temi di tipo politico sociale economico ma soprattutto del rapporto fra scienza tecnologia e società che potevano essere affrontati ovviamente sto parlando del film openheimer di christopher nolan che è uscito il 23 luglio 2023 negli stati uniti diciamo così in contemporanea col col film barbie da cui appunto il famoso meme barbieheimer che in italia invece se non sbaglio è uscito alla fine agosto intorno al 28 agosto è proprio il periodo in cui io l'ho visto l'ho visto al cinema anche perché secondo me è uno di quei film che va goduto al cinema anche se non con tutte le diciamo così amminicoli di tipo tecnologico imax 70 mm eccetera eccetera che sicuramente danno un'esperienza cinematografica molto più approfondita però bisogna fare di necessità virtù nel senso che non ne sono disponibili dappertutto questa le cinematografie io comunque l'ho visto al cinema e me lo sono goduto da vari punti di vista allora in realtà io non ho intenzione di fare una recensione di del film perché non è il mio stile nel senso che io i film riguardo ne prendo le cose che mi piacciono dei dimentico le cose che mi piacciono meno ma cerco comunque sempre di farne un di utilizzare il miglior modo possibile ovviamente dato che mi sembra diciamo così argomento discussione alla fine del mio ragionamento su questo video quindi nella parte finale dirò anche cosa ne penso del film Oppenheimer perché secondo me non ha fatto un lavoro interessante però in questo caso io vorrei soprattutto parlare dei temi sociologici che sono alla base di questo film ovviamente non posso parlare di tutti gli argomenti perché in realtà la letteratura sociologica sulla bomba atomica è molto 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 consistente a un punto di vista storico politico economico delle conseguenze come stavo dicendo fra tecnologia e società quindi in realtà il modo per affrontare questo problema è molto ampio io però mi concentrerò su alcuni aspetti che secondo me vale la pena di essere che siano focalizzati cioè che diventano sempre più interessanti e per fare questo io diciamo così ho diviso da un punto di vista logico in quattro blocchi il film diciamo che c'è la prima parte che è la formazione di Oppenheimer cioè quando lui da dottorando comincia a avere dimestichezza e avere sempre più interesse nei confronti della fisica teorica e quindi anche rapporti più o meno conflittuali con con i suoi docenti poi c'è la seconda parte che fa riferimento a quando inizia il progetto quello che si chiama il kick off no il il calcio d'inizio poi c'è la terza parte in cui ci sono le difficoltà e successi legati alla fine nella costruzione bomba atomica che culmina nella appunto della cosiddetta trinitri cioè la bomba atomica che doveva diciamo sì il dispositivo che doveva essere testato per vedere se le idee legate alla costruzione bomba atomica avessero un sostegno non solo scientifico ma anche ingegneristico tecnologico e poi infine c'è la quarta parte che ha a che fare con le conseguenze politiche che secondo me la parte più delicata e quella che io devo essere sincero conoscevo meno della della vicenda di oppenheimer anche se ovviamente come molti di voi conosceva il progetto manatta non c'è la il nome in codice con cui si allo sala mosso un gruppo di scienziati molto molto nutrito cominciò a elaborare un progetto di costruzione della bomba atomica e poi culminerà nella nella nascita di delle due bombe topiche sono state sganciate sulle scime nagasaki questo è un po il discorso ovviamente dire che sono queste quattro fasi è una forzatura perché come tutti credo sappiano il cinema di nolan è famoso per essere basato su diciamo si fast forward flashback cioè un po il l'asse del tempo di dentro i film di nolan sono è piuttosto alterato ed è una cosa che le rende i film di nolan molto molto interessante però diciamo così possiamo considerare questi capitoli strutturanti di questo film e io su questa base ho chiesto di fare una riflessione per quanto riguarda gli elementi sociologici di questo film cominciamo subito con la prima parte come dicevamo la prima parte ha a che fare con la la formazione di di oppenheimer dunque allora in questa prima parte noi lo vediamo diciamo così studente in europa e soprattutto in germania con cui che comincia a prendere dimestichezza con la fisica più avanzata dell'epoca che è la meccanica quantistica per intenderci la fisica nucleare la cosa diciamo così questa fase è interessante perché è in questo momento che oppenheimer comincia a conoscere alcune diciamo così alcune risorse molto importanti che poi avranno un ruolo sia nella sua vita personale nel senso diciamo così nel suo aspetto scientifico sia nello sviluppo della bomba atomica quindi da un lato il l'incontro con nils bohr che è interpretato da kenneth branag e dall'altro per esempio il suo incontro con werner heisenberg che per intenderci interpretato da ma sia da matthias schweighofer spero di averlo pronunciato bene che diciamo così sarà colui il quale poi heisenberg sarà quello che diventerà il responsabile scientifico del progetto della bomba atomica dei nazisti quindi comunque è un incontro avviene diciamo così in un contesto di tipo scientifico ma poi i due diventeranno per intenderci praticamente diciamo così concorrenti nel raggiungere un risultato molto simile allora qual è la componente sociologica di questa prima parte che può essere interessante allora quello che mi è venuto in mente è quello che viene chiamata è una diciamo così una teoria che viene chiamata la cosiddetta forza dei legami neboli di mark che mark granovette nel 1973 un sociologo americano ha messo appunto la cosa dice questa teoria questa dire dice fondamentalmente in che modo le persone cominciano ad avere diciamo così dei contatti importanti nel loro percorso lavorativo professionale come questi contanti poi si trasformano nella possibilità di accedere a diciamo così universi sociali che possono essere delle risorse mi spiego allora noi di solito abbiamo nella nostra rete sociale i contatti sociali che noi ci costruiamo durante l'università nel mondo del lavoro durante e diciamo così nella nostra vita di tutti i giorni secondo il criterio dell'omofilia cioè fondamentalmente noi costruiamo i legami sociali sulla base di qualcosa che abbiamo in comune all'università rispetto alle persone che si frequentano la stessa nostro percorso universitario nel mondo del lavoro le persone che fanno più o meno il nostro lavoro e invece nella nella vita di tutti i giorni le persone che per esempio abitano il nostro quartiere quindi sono le reti sociali sono omofili rispetto a queste a queste proprietà però nelle sociali c'è anche un grado di eterofilia c'è di diversità per esempio faccio un esempio veramente banale e noi possiamo avere una rete omofila all'università per quanto perché tutti fanno lo stesso percorso universitario per esempio tutti sono iscritti a sociologia scienza della comunicazione e quando noi frequentiamo questi corsi laurea ovviamente però le persone che di questo di questi corsi laurea possono avere possono essere eterofili rispetto al sesso quindi possono essere sia uomini che donne quindi tutte le reti sociali hanno una componente omofila e una componente eterofila cosa scoprì mark granovetter nel 73 facendo un esperimento con i suoi studenti soprattutto andando a chiedere ai suoi studenti laureati come avessero trovato il loro il loro posto di lavoro lui scoprì che le persone importanti che avevano permesso di trovare un posto di lavoro non erano le persone con cui avevano un legame di tipo omofilo quindi le reti omofile le reti di contatto ma in realtà erano persone che avevano conosciuto per caso o avevano conosciuto di situazioni assolutamente diciamo così diciamo così poco formali che però gli avevano permesso di accedere ad universi sociali che poi sempre trasformati nella in posti che avevano trovato avevano permesso solo di trovare lavoro perché forza dei legami deboli perché di solito i legami sono che non abbiamo con le persone sono forti cioè io conosco il signor a il signora conosce il signor b il signor b conosce il signor c è di solito io conosco il signor c poi a sua volta conosce il signor il sottoscritto quindi c'è i legami tendono a rinsaldarsi gli uni con gli altri un legame debole invece quando questo meccanismo di rinsaldarsi questo meccanismo di rinforzo delle relazioni non è non è non si verifica cioè conosco a conosce b conosce c ma c non conosce il sottoscritto a quindi noi siamo ci conosciamo per intersposta persona ma non ci conosciamo direttamente perché sono interessanti i legami deboli perché legami deboli dato che molto spesso sono legami di tipo eterofilo perché sono socialmente distante da noi ci permettono di accedere a universi sociali che non avremmo avuto modo di raggiungere in altro con altre strategie per esempio il caso classico no io conosco una io frequento una festa universitaria in questa festa universitaria ci sono ragazzi tutte le facoltà in questa facoltà c'è qualcuno che fa ingegneria io conosco questo ragazzo di ingegneria magari dopo un po non ci sentiamo per molto tempo a un certo punto questo ragazzo di ingegneria si mi ricontatterà perché magari cercano uno che ha le mie competenze nella fatti specie sociologiche per un lavoro che stanno portando avanti per una certa che stanno portando avanti quindi questa persona per me è diventata una risorsa per accedere in questo caso al mondo dell'ingegnerice ad un universo sociale che per me è eterofilo magari è omofilo dal punto di vista del genere sessuale presumo è un'ipotesi come un'altra ma è diciamo così eterofilo dal punto di vista della competenza perché io sono uno scienziato sociale e questa persona invece è un ingegnere quindi abbiamo due tradizioni diverse se non fosse stato per quel contatto fortuito non ci sarebbe stata questa relazione quindi siamo dei legami deboli perché non vengono rinforzati dagli altri elementi che fanno parte della nostra rete sociale come si dipana questo rispetto a Oppenheimer e allora Oppenheimer questo si dipana il fatto che lui ha conosciuto degli elementi sicuramente importanti del suo percorso professionale tutti fisici ma li ha conosciuti in contesti geografici diversi questo gli ha permesso per esempio di non solo di entrare in contatto con idee innovative che poi sono state alla base della costruzione della bomba atomica quindi anche un punto di vista creativo noterofilo in questo caso più legato alla creatività che non al mero contatto sociale ma è diventato anche una risorsa perché in questo modo è riuscito a diciamo così entrare in relazione con alcuni dei più importanti esponenti della fisica nucleare di quel periodo nella fattispecie sto pensando a niels Bohr che poi per chi ha visto il film sa che poi verrà diciamo così portato negli stati uniti e lui comunque darà un suo contributo anche se circoscritto per quanto riguarda lo sviluppo della bomba della bomba atomica quindi in questo diciamo che la prima parte di formazione di Oppenheimer dal mio punto di vista mi fa venire in mente a meno per come la racconta Nolan e per come viene raccontato nel libro che da cui Nolan ha tratto la biografia di Oppenheimer a questa vicenda diventa secondo me è molto interessante interpretarlo con la teoria della forza dei legami deboli di Mark Granovetter una teoria di social network di reti sociali che è stata sviluppata nel 1973 nella seconda parte invece abbiamo il momento in cui Oppenheimer comincia ad entrare nel progetto di costruzione della bomba atomica viene nominato dal generale Leslie Groves interpretato da Matt Damon il responsabile scientifico del progetto e quindi viene dato diciamo si avvio alla quello che si chiama il progetto Manhattan c'è il nome in codice con cui veniva definita il progetto di costruzione della bomba atomica allora questa seconda parte è interessante sociologicamente parlando o comunque a me ha fatto in mente alcuni concetti sociologici che nelle scienze sociali soprattutto nelle scienze sociali che si occupano di sociologia della scienza quindi lo studio sociologico di nel modo con cui il sistema scientifico e tecnologico lavora questa è la sociologia della scienza e ha fatto in mente ovviamente una cosa molto classica che si chiama il concetto di big science big science è un termine tecnico come dice la parola stessa vuol dire grande scienza è stato messo a punto da Derek de Sola Price nel 1963 proprio per descrivere qual era la novità sociologica di un progetto di ricerca come il progetto Manhattan quindi il concetto big science nasce proprio per descrivere il concetto Manhattan cosa vuol dire big science alla big science vuol dire fondamentalmente che la scienza fatta in grande infatti l'articolo di de Sola Price si chiama little science big science proprio per parlare di questo cambiamento cosa vuol dire una scienza fatta in grande vuol dire che il progetto Manhattan per la prima volta aveva reso l'istituzione della ricerca scientifica in questo caso della ricerca della bomba atomica un progetto di ricerca molto ampio grande vuol dire con tantissime persone coinvolte con tantissime necessità di risorse economiche ma anche con la necessità di risorse tecnologiche quindi di infrastrutture quindi tanti soldi tante persone tante infrastrutture questo è il concetto di big science per intenderci possiamo sempre restando il mondo della fisica metto la paragone con il gruppo di ricerca dei ragazzi di via panisperma per intenderci il gruppo coordinato da Enrico Fermi questo era un gruppo di ragazzi che proprio nella via panisperma di Roma che è una via che si trova tra l'altro vicino alla stazione termini in questa via loro in un appartamento facevano tutti gli esperimenti quindi era un gruppo di persone molto piccolo che con poche risorse riuscivano a fare delle ricerche molto sofisticate ecco quella era la little science è una scienza fatta in piccolo con poche persone con investimenti relativamente contenuti e con poche attrezzature invece col progetto Manhattan si fa un salto molto importante si fa proprio un salto di scala questa situazione viene a scalare come come si dice nell'ambito informatico cioè tantissimi soldi tantissime persone tantissime infrastrutture come si vede nella nascita dei laboratori di Los Alamos e questo è un aspetto ma c'è un altro aspetto secondo me che vale la pena su cui vale la pena focalizzare l'attenzione e il fatto è proprio Los Alamos questa il fatto che Oppenheimer chiede che venga costruita una cittadina in cui gli scienziati i ricercatori nell'ambito della della ricerca fisica nucleare potessero vivere potessero fare le loro ricerche ma soprattutto potessero andarci con le loro famiglie perché altrimenti giustamente nessun ricercatore avrebbe lasciato per così tanto tempo le proprie famiglie anche se comunque è il progetto era molto importante molto interessante quindi questo è sicuramente una componente importante questo dal mio punto di vista ma devo essere sincero mi sono anche avvalso di alcuni paper scientifici da questo punto in questo in questo per questa analisi che metterò nella descrizione di questo video c'è una componente da prendere in considerazione del concetto di istituzione totale allora il concetto di istituzione totale un concetto messo a punto da un grandissimo sociologo che si chiama Erving Goffman nel 1961 non entro in dettaglio su chi Erving Goffman perché è un sociologo su cui varrebbe la pena veramente farci un video perché ha innovato profondamente il modo di fare ricerca ma soprattutto ha elaborato dei concetti che noi tuttora utilizziamo per studiare per esempio i social media però quello che interessante dal mio punto di vista il concetto di istituzione totale Goffman pervenne a questo concetto durante una ricerca che lui fece in un manicomio e lui si accorse che questo manicomio fondamentalmente aveva un determinato modo di gestire le persone che ne facevano parte c'erano i malati che erano identificati da una certa divisa c'erano i diciamo così i medici che erano identificati da un camice c'erano i sorveglianti che erano identificati da un altro tipo di divisa e tutte le norme tutto il tempo scandito all'interno di questo di queste costruzioni era un tempo che era molto ritmato aveva bisogna fare diciamo così delle cose specifiche in ogni momento della giornata le istituzioni totali per intenderci Goffman le identificò nei manicomi ma anche nelle carceri oppure nelle scuole nelle scuole in cui appunto si per intenderci le scuole tipo Hogwarts cioè le scuole in cui si passa tantissimo tempo insieme sono quelle situazioni in cui per un periodo di tempo circoscritto si passa un tanto tempo insieme ad altre persone però ci sono dei ruoli molto ben definiti anche si interpretano dei ruoli sociali molto ben definiti per intenderci è questo concetto che portò alla nascita in italia del movimento della psichiatria democratica o antipsichiatria cioè per intenderci movimento che volle trasformare i manicomi non in dei luoghi di detenzione ma il luogo in cui si cercava la cura dei pazienti questa è però è un'altra storia come come si dice allora cosa c'entra un istituzione totale manicomio carcere caserma collegio con lo Salamos perché lo Salamos si organizzava come una istituzione totale in primo luogo aveva uno scopo ben preciso cioè le persone che stavano lì dentro dovevano raggiungere un obiettivo quello di costruire la bomba atomica quindi c'era anche una dimensione diciamo così intenzionale teleologica di questa istituzione fisica perché è una città e sociale poi c'era c'è l'aspetto di del fatto che c'erano diversi ruoli sociali c'erano i ricercatori le famiglie dei ricercatori quindi gli scienziati le famiglie ricercatori che facevano il loro diciamo così che vivevano la loro vita c'era tutto il sistema dei servizi che sosteneva sia i ricercatori che le loro famiglie le persone lavoravano a diversi ruoli quindi anche ruoli amministrativi i militari avevano il compito di gestire tutta la questione della sicurezza c'era un management che gestiva un management che era prevalentemente militare che gestiva le attività che si svolgeva all'interno di lo Salamos quindi possiamo dire e non lo dico io diciamo così lo accenna un certo tipo di direttore scientifica di sociologia della scienza che possiamo considerare lo Salamos una vera e propria istituzione totale non nel senso che è un manicomio ma nel senso che è un posto in cui si interpretano dei ruoli sociali molto diversi questi ruoli sociali sono organizzati coordinati e scanditi all'interno di uno spazio fisico chiuso che in questo caso è rappresentato da lo Salamos la terza parte è come dicevo precedentemente quella in cui si cominciano ad avere sia delle difficoltà che dei successi che successi che poi culmineranno nel sviluppo di Trinity la prima bomba atomica è il progetto di bomba atomica che viene fatto esplodere per verificare l'effettiva affidabilità delle teorie scientifiche ma soprattutto della capacità che avevano queste teorie nel trasformarsi in un artefatto tecnologico e quindi che avessero anche una base tecnologico-ingegneristica perché non bisogna dimenticare che la scienza può sviluppare le teorie, le sue idee, le sue elaborazioni però la traduzione della scienza in un artefatto, in una tecnologia non è un percorso automatico non è vero quello che si dice che la scienza scopre e la tecnologia applica le cose sono molto più delicate e molto più sofisticate allora in questa parte secondo me sono due i concetti sociologici da prendere in considerazione uno che prendo dalla sociologia della scienza e invece un altro che prendo dall'antropologia della tecnologia cioè lo studio antropologico degli artefatti tecnologici allora quello che prendo dalla sociologia della scienza è il concetto di ingegnere eterogeneo o di ingegneria eterogenea sviluppata da John Law nel 1987 allora che cos'è l'ingegneria eterogenea? noi siamo abituati a pensare gli scienziati o meglio i ricercatori scientifici come delle persone che fanno sostanzialmente un unico lavoro quello di fare ricerca scientifica quindi fanno esperimenti, frequentano i convegni, scrivono articoli scientifici si confrontano con la comunità scientifica che è vero però esistono altri, ha un'altra tipologia di ricercatori scientifici di scienziati che John Law chiama nel 1987 l'anno in cui mette a punto questo concetto chiama ingegnere eterogeneo e sono quelle persone che hanno un'enorme competenza scientifica quindi sono dei veri e propri figure carismatiche nello sviluppo di un progetto ma hanno anche una fortissima competenza relazionale e politica e questo secondo me è un aspetto più interessante non devi essere solamente bravo nelle teorie scientifiche o nella conoscenza scientifica per poter giungere alle tue analisi, alle tue studi ma devi essere anche sufficientemente bravo nel mettere insieme il giusto team di ricerca farlo lavorare fare in modo che non ci siano dei conflitti cercare di facilitare i rapporti con gli altri partner del progetto come nel caso sempre Leslie Groves interpretato da Matt Damon e così via dicendo quindi questo è l'ingegnere eterogeneo e possiamo dire che Oppenheimer si sia comportato come un ingegnere eterogeneo cioè una persona con una figura carismatica dal punto di vista della conoscenza scientifica che però doveva anche avere delle forti capacità diplomatico-relazionali diremmo politiche per cercare non solo di poter procedere il miglior modo possibile nel lavoro tramite il team di scienziati che coordinava che erano appunto di estrazione diversa avevano idee diverse eccetera eccetera ma soprattutto anche con l'infrastruttura etimo militare infatti nel film ci sono vari momenti in cui Oppenheimer deve negoziare i propri viaggi e la propria presenza nei convegni e negli incontri scientifici con il generale Leslie Groves quindi questo è l'ingegnere eterogeneo l'altro concetto che secondo me possiamo applicare invece a Trinity cioè allo sviluppo della bomba della bomba sperimentale che serviva per testare l'affidabilità delle teorie scientifiche sulla cui base, quindi la fissione nucleare sulla cui base è stata costruita per la bomba atomica e secondo me il concetto che aiuta in questo senso è un concetto presso dall'antropologia e dalla tecnologia l'autore si chiama Arnold Pasey che ha messo a punto questo concetto del 1983 e il concetto è tecnologia a metà strada allora che cos'è una tecnologia a metà strada? noi siamo abituati a pensare alla tecnologia come qualcosa che viene sviluppato e poi lanciato sul mercato una volta lanciato sul mercato non viene più presa in considerazione se no tramite il marketing per cercare di fare in modo che le persone la utilizzino nel maggior modo possibile in realtà una tecnologia a metà strada è una tecnologia che ha un suo percorso ha una sua dinamica ma ancora non è completa non c'è un sostegno sociale condiviso non c'è una sicurezza nell'utilizzo nel suo utilizzo non è sicuro in che modo possa essere utilizzata dalla società o quale contesto sociale sia più adatto a svilupparla e così via dicendo questo concetto si chiama tecnologia a metà strada proprio perché non è una tecnologia compiuta ma deve ancora avere un percorso di negoziazione sociale e non solo tecnologica fra i vari attori coinvolti per cercare di trovare la propria collocazione allora perché Trinity è una tecnologia a metà strada? semplicemente perché era un esperimento non era sicuro che funzionasse tra l'altro c'era anche l'ipotesi che potesse distruggere l'atmosfera terrestre e quindi avere delle conseguenze incalcolabili e quindi alla fine era proprio il momento in cui si veniva il cosiddetto experimentum crucis utilizzando i termini di bacone cioè il fatto che era proprio il momento in cui bisognava verificare se questa bomba avrebbe funzionato oppure no e questa secondo me è quello che definisce una tecnologia a metà strada cioè non è una tecnologia completa ma diventerà tale solo quando farà quello per cui è stata progettata e soprattutto verrà incorporata all'interno di un processo istituzionale nella fattispecie l'armamentario bellico della seconda guerra mondiale degli Stati Uniti la quarta parte invece sono le conseguenze politiche del ruolo di Oppenheimer per chi ha visto il film ma non spoiler dicendo questa cosa anche per chi non l'ha visto fondamentalmente una volta sganciata le bombe atomiche una su Hiroshima e l'altra su Nagasaki Oppenheimer cercherà di ridimensionare il suo ruolo come appunto il costruttore della bomba però questo gli tirerà contro le soprattutto perché gli Stati Uniti cominceranno a fare il percorso di sviluppo della bomba H questa è una linea di ricerca da parte di Edward Teller un altro fisico che comunque ha avuto un ruolo importante nel progetto Manhattan e fondamentalmente Oppenheimer verrà sottoposto ad una vera e propria giuria che dovrà giudicarne le sue azioni allora non ho detto niente di particolare nel senso che ovviamente non ho fatto spoiler perché ovviamente è tutto da sviluppare però questa fase, questa dimensione questa componente del racconto e soprattutto della vita della biografia di Oppenheimer mostra un ruolo ben preciso che è l'interferenza della dimensione politica all'interno della dimensione scientifico-tecnologica nella fattispecie tecnologica quale interferenza migliore potrebbe essere quella del sistema militare che quindi è un sistema legato alla politica rispetto allo sviluppo tecnologico ecco questo per far capire questa fase è importante diciamo così in questo caso il ruolo di Louis Strauss interpretato da Robert Downey Jr allora per quanto riguarda il ruolo di questo personaggio ovviamente non dico nulla diciamo così per non fare spoiler però c'è una cosa che è proprio in questa fase che si vede come la ricerca scientifica e tecnologica alla fine deve legittimare il proprio percorso e quindi anche le norme etiche che ha contro le quali si è dovuta schierare o comunque contro cui ha dovuto elaborare tutto un discorso di autolegittimazione per poter giustificare questo tipo di percorso rispetto alla politica soprattutto da parte di Oppenheimer che pur essendo stato colui il quale ha sviluppato tramite il progetto Manhattan la bomba atomica non voleva che questo tipo di linea di ricerca progredisse ulteriormente cosa che invece poi come sappiamo dal punto di vista della storia della guerra fredda è diventato proprio l'elemento strutturante della guerra fredda soprattutto durante l'amministrazione Truman e poi nelle amministrazioni americane successive quindi questo secondo me è il momento più drammatico non solo di tutto il film ma anche in cui fa capire come l'obiettivo è stato raggiunto cioè è stata sviluppata la bomba atomica la bomba atomica aveva avuto un ruolo non sappiamo quanto eticamente condivisibili nella fine della seconda guerra mondiale non sappiamo ovviamente è una domanda retorica perché la guerra poi era alla fine però come diceva mi pare che fosse lo Stoieschi quando c'è in una scena una pistola prima o poi questa pistola durante il percorso narrativo verrà usata da uno dei personaggi ecco questa è la stessa situazione non puoi avere una tecnologia così potente così distruttiva con la bomba atomica senza poi utilizzarla anche per un motivo di potere simbolico cioè puoi dire che hai un strumento che quindi puoi esercitare fare il famoso terrore basato sulla deterrenza cioè nessuno comincia a fare la guerra perché ovviamente tu sei quello che ha uno strumento che è più pericoloso di tanti altri questo puoi dire fondamentalmente come da un punto di vista sociologico possiamo interpretare il film di Christopher Nolan e secondo me io mi sono semplicemente soffermato sulle cose che mi hanno colpito io avendo formazione da sociologo della scienza e di appassionato diciamo si studioso di fenomeni legati alla tecnologia ci ho visto le cose che hanno a che fare con le cose di cui mi occupo io e anche se ovviamente il film ha talmente tanti temi talmente denso, talmente ricco di riferimenti storici, politici, relazionali, economici, scientifici biografici, emotivi che ognuno a seconda della propria formazione può identificare alcune tematiche allora per quanto riguarda il film devo dire la verità mi è piaciuto o non mi è piaciuto devo dire la verità io sono un appassionato di Nolan Nolan è il classico regista che adoro perché è un regista nerd cioè è un regista nerd perché come usa il tempo per come usa le teorie scientifiche per la sua attenzione maniacale anche in alcuni riferimenti scientifici che possiamo trovare per esempio penso ad Interstellar o anche Inception quindi io diciamo così non sono sereno in questo mio giudizio perché sono un appassionato di Nolan ho appena avuto un bellissimo film ho appena avuto un bellissimo film sostanzialmente da mio punto di vista per tre motivi in primo luogo perché c'è l'estetica di Nolan cioè il fatto che c'è un uso del tempo assolutamente decostruito che va avanti e indietro ed ogni tassello di questo racconto comunque verrà ricostruito alla fine della narrazione quindi chiamerà una sintesi in questa narrazione in secondo luogo la seconda cosa che mi è piaciuto molto di questo film è il fatto che è concentrato sulla figura di Oppenheimer in cui si chiama Murphy è bravissimo ma soprattutto quella di Oppenheimer non è tanto un biopic ma il suo punto di vista rispetto a un progetto così delicato come quello di costruire un'arma che ovviamente avrebbe cambiato per sempre la politica internazionale quindi c'è anche una consapevolezza in questo senso quindi sicuramente non è proprio un biopic un film biografico ma è il punto di vista di Oppenheimer su un mondo che stava cambiando dal punto di vista scientifico meccanica quantistica e fisica nucleare ma anche dal punto di vista politico nella seconda guerra mondiale quindi questo è sicuramente un aspetto il terzo aspetto è che per quanto può sembrare esteticamente molto banale e mi scuso con tutti gli appassionati di cinema e di estetica cinematografica a me l'idea di utilizzare il bianco e nero per la componente diciamo così fredda e il colore per la componente più emotiva più ambigua e interpretativa a me è piaciuto molto un po' perché sono schematico io quindi da questo punto di vista può essere un problema mio ma anche perché attivava anche diciamo si diceva in maniera piuttosto riconoscibile e su quell'aspetto poter concentrare la propria attenzione e su quali altri aspetti invece focalizzare su altri temi poi ovviamente c'è chi ha detto che le scene di sesso sono fredde che questa è proprio la cifra stilistica dal mio punto di vista di Nolan c'è chi la parte emotiva è comunque resa molto fredda c'è chi invece ha detto che c'è una scarsa presenza delle donne o comunque le donne sono ancillari quando in realtà la la ricerca scientifica del progetto Manhattan ha avuto anche delle importanti fisiche e matematiche che hanno avuto un ruolo non secondario rispetto ai colleghi maschi anche se bisogna dire comunque all'epoca il punto di vista è quello maschile da questo punto di vista però quindi al di là di queste sbavature a me il film è piaciuto molto infatti ho intenzione di rivederlo in lingua originale proprio per godermi alcuni passaggi confesso che prima l'ho voluto vedere in italiano perché volevo concentrarmi sull'aspetto scientifico tecnologico soprattutto sulla biografia di sul racconto biografico di Oppenheimer adesso che invece sono preso dimestichezza con la storia confesso che voglio godermelo con altre sfumature come poi spesso capita con i film di Nolan più li guardi più ci trovi altre cose proprio perché i piani narrativi i piani estetici sono assolutamente sono apposti bravo Nolan sono contento per il film che ha fatto e soprattutto per noi appassionati di scienze e tecnologia che conosciamo e abbiamo interesse nei confronti di quel periodo storico tra l'altro l'altra volta in televisione hanno fatto hanno fatto Tenet altro film pazzesco che mi è piaciuto anche se lo devo rivedere più volte per cogliere tutti i passaggi legati all'entropia negativa e c'è un riferimento Oppenheimer non so se l'avete notato c'è proprio un riferimento a Oppenheimer quando si racconta del ruolo che ha avuto la ricerca scientifica nel costruire questi strumenti che permettevano di andare avanti indietro nel tempo di utilizzare questa entropia negativa nell'universo narrativo di Tenet quindi se vi capita su YouTube si trovano un sacco di video che mettono in evidenza la citazione di Oppenheimer all'interno di Tenet e questo possiamo pensare che fosse anche un progetto estetico di Nolan allora questo è quanto spero di non avervi annoiato soprattutto di essere stato chiaro perché mi sono accorto che sono andato che ho parlato molto velocemente anche di concetti piuttosto sofisticati soprattutto il concetto della forza dei gamideboli magari ci ritornerò sopra su un altro commento perché secondo me vale la pena conoscerlo però vi ringrazio della vostra attenzione mi farebbe piacere avere i vostri commenti le vostre osservazioni perché io appunto uso queste queste quasi recensioni per parlare di sociologia però vorrei avere anche il vostro punto di vista dei vostri riferimenti perché mi piace molto discutere su questi temi come credo possiate immaginare altrimenti non mi sarei messo a fare questo video e c'è un'altra e c'è un'altra cosa se ritenete che questi miei video possono essere interessanti dato che li faccio una volta ogni quando va bene ogni mese quando in realtà ogni due mesi mettete le notifiche della campanella oppure iscrivetevi al mio canale giuro che non vi annoierò oltremodo e in questo modo magari altre persone potranno scoprire altri video che faccio una volta ogni tanto anche se mi rendo conto che essendo uno poco diciamo così costante potrebbe essere un problema grazie a tutti voi grazie al vostro tempo e a questo punto ci vediamo al prossimo video ciao